Alverio, Antonello. Signor Alverio Fiori, leggo alcuni capi d'accusa emersi finora a suo carico. Omicidio dello studente Andrea Lucati. Omicidio della guarda giurata Luigi De Rossi. Se ne cercavo. Omicidio dell'agente Franco Giordano, detto serbico, al liceo Giulio Cesare di Roma. Roma, 28 maggio 1980. Un gruppo terroristico d'estrema destra ha intercettato, annientato e disarmato una postazione di mercenari al servizio della repressione. Dovreste fare il salto di qualità. E per farlo, mi serve l'appoggio di chi conta. I terroristi sono l'ultimo anello di un'insana catena che tiene unita la massoneria, la malavita organizzata e i servizi segreti deviati. Bisogna destabilizzare le pagine dello Stato. L'area è un'immagine di precarietà, di ingovernabilità. Seminare il panico è questo quello che dobbiamo fare. Chiudici! 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 Grazie a tutti.